Questa è Laura che sta facendo i smicchi di urlo con dei biscotti tradizionali americani. Classico burro, zucchero e strutto con un po' di vaniglia, adesso metto una farina. E' una consistenza molto simile alla pasta frolla, molto simile, un po' più morbida forse. Zucchero e cannella, la pasta è pronta, togliamo le fettine e poi rogliamo acqua, facciamo delle palline, mettiamo nel cannella e zucchero, eccoli qua pronti ad infornare. Ed eccoli a metà cottura, proprio belli, guardate che spettacolo, sono quasi cotti, fantastici, sono proprio aperti come quelli che si vedono sulle confezioni, brava Laura. Io invece ho fatto la crostata, la ricetta della crostata è già su Viva la focaccia, facciamo una bella videoricetta che vi spiega come farla, passo passo, ed ecco la mia crostata. Ecco i biscotti, snickerdoodle, fantastici, poi li mettiamo su Viva la focaccia, facciamo la ricetta completa, ve li mettiamo. Grazie. Grazie. Grazie.